Stamattina Sant'Antimo cerimonia per intitolare il piazzale della stazione a Rosario Livatino, giovane magistrato ucciso dalla mafia. C'era per noi Francesca Ghidini. Una targa in mezzo ai fiori per ricordare Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla mafia in Sicilia nel 1990. Da oggi a lui è intitolato il piazzale della stazione di Sant'Antimo, segnale forte in un comune sciolto per Camorra. Stiamo facendo pulizia, spiegano i commissari prefettizi. Abbiamo dovuto revocare alcuni appalti per cercare di rimettere in moto la macchina organizzativa e cercare di lasciare questo comune, quantomeno con la chiarezza. Tra poco si torna il voto qui a Sant'Antimo. Nelle inchieste dell'antimafia di Napoli sono finiti di recenti amministratori, dirigenti, imprenditori. Attenti alle candidature, manda a dire ai politici il prefetto di Napoli. Agli elettori invece l'invito, non fatevi condizionare dalle organizzazioni criminali. Essenziale dare dei segnali di novità, di persone che vogliono bene alle comunità e soprattutto siano del tutto non contigue a organizzazioni criminali. E ai cittadini, ai giovani? Non vi fate avvicinare o accattivare da queste persone. Siete giovani, volete bene al vostro comune, alla vostra città. Grazie.